Si avvicinano i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli, celeste protettrice delle genti di mare. I festeggiamenti partiranno dal 10 luglio, quando, subito dopo il rosario che si terrà alle ore 18.30, verrà discesa entronizzata la venerata effigie della Beata Vergine Maria di Costantinopoli. A seguire poi ci sarà la Santa Messa. Da giovedì 15 luglio invece comincerà la novena. Questo è il seguente programma. Ore 18.30 Santo Rosario, ore 19, offerte benedizione della corona per l'immagine del bambino Gesù, novena e Santa Messa. Il tutto si svolgerà rispettando le norme anti-covid, con l'uso obbligatorio della mascherina e rispettando le giuste distanze. Seguirà poi il programma religioso e civile della festa. Grazie.